Avevano rubato indumenti in più negozi del centro commerciale di Casa Massima, ma sono state scoperte dai carabinieri. Quattro donne di Bitonto, tre sorelle ed una loro amica, sono state arrestate per furto aggravato in concorso. I militari le hanno fermate nel parcheggio mentre stavano per salire in auto. Nelle loro borse hanno trovato magliette, gonne e altri indumenti. La tecnica utilizzata dalla banda delle sorelle era sempre la stessa. Le quattro donne nascondavano nelle borse i vari capi di abbigliamento, una volta rimossi i dispositivi antitaccheggio, per poi guadagnare l'uscita. Così è andata anche ieri, venerdì 7 aprile, quando approfittando della calca delle persone, avevano rubato numerosi capi di abbigliamento. Nelle borse i militari hanno trovato anche le forbicine utilizzate per rimuovere l'antitaccheggio. Le quattro donne sono state arrestate su disposizione del magistrato, portate presso le loro abitazioni, dove permarranno in regime degli arresti domiciliari in attesa di giudizio direttissimo. La rifurtiva, composta prettamente da indumenti femminili del valore complessivo di circa 400 euro, è stata restituita ai singoli esercizi commerciali.